su orsobret ci sono dei momenti in cui mi sembra proprio di non avere più neanche un briciolino di energia per terminare la mia corsa sono stanco sono stanca di aspettare che si realizzi questo mio sogno di ricevere questo regalo è il tempo il tempo il tempo è l'illusione più grande che abbiamo serve solo a separare cronologicamente le azioni la cui concatenazione produce il risultato desiderato c'è però un tempo di attesa c'è uno svolgimento del processo e quello dobbiamo lasciare che si compia nel frattempo possiamo sempre ricordarci che a precedere ogni alba è la notte più scura che a precedere ogni oasi rigogliosa c'è sempre un deserto da attraversare e che ogni fase della vita non dura per sempre ma quanto basta per apprendere la lezione per imparare qualcosa e per apprezzare soprattutto il dono stupendo che sta arrivando ed è nostro